Notte a Torraca, il paese dei LED dove non si vede se il LED funziona. Si intitola così il chiacchieratissimo reportage pubblicato sul venerdì di Repubblica e dedicato al piccolo paese del Golfo di Policastro, divenuto famoso per essere stato la prima LED City del mondo. L'articolo in sostanza mostra luci e ombre del progetto, perché l'illuminazione fornita dai LED è davvero esigua e rende difficile anche mettere la chiave nella toppa o riconoscere a 10 metri un amico o un parente, perché la distanza tra i lampioni è rimasta la stessa del tempo pre-LED, nonostante il cono di luce prodotto da questi lampioni sia più stretto, è perché il risparmio di un terzo in termini di bollette Enel viene compensato, si legge sempre nel reportage, dai costi di manutenzione dovuti a schede già fulminate e LED guasti. Insomma, un vero flop, stando a quanto riferisce la giornalista Paola Zanuttini, che non ci va cauta in quanto a giudizi, quando ad esempio scrive Certo è stato ridotto l'inquinamento luminoso, ma a dirla tutta, visto da lontano, Torraca sembra più un cimitero con i suoi lumini che un faro dello sviluppo sostenibile. Un'affermazione dal sapore acidulo, che finisce per togliere forza all'articolo, cheppure poteva avere il merito di far notare le lacune del progetto, senza quella connotazione politica che invece emerge in più punti dello scritto. Dopo aver riportato le inadeguatezze dei LED, è affermato che di distanza ne corre, tra la visibilità, quella ottenuta da Torraca grazie a questo tipo di lampadine, e la possibilità di vedere, quella negata dalle stesse, la giornalista continua nell'analizzare l'operato dell'ex amministrazione Filizzola, facendo crollare come un castello di carta la sua politica del fare, tra una piscina che ha bisogno della caldaia e ha un'utenza poco numerosa, una centrale eolica mai realizzata per battaglie e interventi giudiziari, un master e un corso di laurea ormai estinti sulle inevitabili energie rinnovabili. Il tutto senza privarsi di un certo sarcasmo, come quando scrive che Filizzola ha ripreso la sua attività di imprenditore nel settore delle fonti rinnovabili, e aggiunge, e dove se no, e senza concedere nulla, come quando di fronte a quattro impianti fotovoltaici, che fruttano ogni anno al comune 120.000 euro, sottolinea che vanno però detratti, 52.000 euro, sempre annui, del mutuo acceso per gli impianti. Per fortuna che a ristabilire un po' di neutralità ci pensano il sindaco Bianco, il quale ammette che convertirsi ai LED è stata sicuramente una buona intuizione, almeno in termini di visibilità, e l'assessore ai lavori pubblici Bruno, il quale individua nell'anticipo dei tempi i difetti della LED City. Ci voleva meno fretta e più sperimentazione, spiega la giornalista, perché in sette anni la tecnologia LED si è evoluta moltissimo, tanti inconvenienti sono stati risolti e i prezzi sono calati. Di certo, alla fine Torraca, dopo questo pezzo, una bella figura non la fa, tanto più, visto che viene sminuito anche il progetto di bike sharing, avviato con filizzola e salutato positivamente anche da Bianco. L'articolo, infatti, termina con questa riflessione. 30 biciclette e un progetto da 36.000 euro faranno comodo in un paese lungo 2 chilometri, circondato da salite e discese, abitato prevalentemente da anziani e perfino da due centenari?